malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene dicevamo che nel periodo intercorrente tra il 1995 e il 2020 cioè nell'ultimo quarto di secolo noi abbiamo avuto sempre aumento di tassazione e taglio di spesa pubblica e servizi pertanto nell'ultimo quarto di secolo prima dell'introduzione dell'euro e dopo il nostro paese ha sempre avuto un bilancio in ordine cioè sempre fatto avanzo dato dal differenziale come citato tra uscite per spesa pubblica ed entrate per tassazione sono dati del fondo monetario internazionale a taluno questa informazione potrebbe apparire dottrinale cioè un freddo dato statistico tuttavia se ragioni su un effetto indotto cosa è successo al debito privato delle famiglie italiane nello stesso periodo di tempo ecco mi fermo qui con questa domanda oggi faccio una domanda in questa rubrica e la domanda evidentemente è retorica cioè chi capisce di economia sa che quando uno stato migliora la propria situazione di debito cioè di deficit e quindi va in surplus manda in deficit il settore privato per una questione legata ai cosiddetti saldi settoriali e c'è un'ampia letteratura su questo ora il problema qual è il problema è che quindi molte persone non conoscendo queste cose applaudono a frasi retoriche come abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi dobbiamo tagliare gli sprechi e via discorrendo frasi apparentemente di buon senso ma che nascondono delle insidie che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti cioè nell'arco degli ultimi 25 anni noi abbiamo sistematicamente fatto avanzo primario 30 anni in realtà ciò abbiamo aumentato la pressione fiscale e ridotto la spesa pubblica ma il risultato è sotto gli occhi di tutti cioè non è che aumentata la ricchezza del paese è peggiorata il pile è sceso la produzione scesa l'efficacia scesa la povertà è aumentata la disoccupazione aumentata via discorrendo allora io mi occupo di dottori commercialisti perché una scuola che si chiama masterbank e di imprese con le quali parlo tutti i giorni se siete un commercialista un imprenditore potete scrivermi al 351 821 9970 solo messaggi whatsapp e naturalmente è interessante capire la posizione degli operatori economici in merito a quello che sto affermando le cose vanno meglio o peggio di prima buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene